Non ci sono le foglie, no? Gli alberi sono tutti spogli, veri? Sì, non ci sono le foglie, perché siamo in winter ora. Sì, credo. Non si stai sempre spogli in alto. Abbiamo alcuni huestos. Abbiamo alcuni huestos. Abbiamo anche un po' di più. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Tanto un amico davvero. Qu'è un paese bellissimo! Valsalega. Il nome di questo paese è Valsalega. Questi sono i bambini qui, naturalmente. Il tipo di bambini qui è in Africa. Questo tipo, se avete in Africa, è stato plantato. Ma qui è naturale. Questi sono i bambini di questi tipi di bambini. Come si chiama il nome di questo tipo di planta? Non so. Immagina che i bambini sono in uniforme. Questi bambini sono bellissimi, in uniforme. Vini e abiti. Vini e abiti. Vini e abiti. Grazie.